In questi giorni sta aumentando sempre di più la campagna contro le organizzazioni sindacali e i privilegi delle organizzazioni sindacali. E allora siccome qui si fa di tutto erbe e un fascio, non è né eticamente, né moralmente, né conicamente accettabile che ci sia qualcuno che dice che fa il sindacalista e prende 300 mila euro al mese. Lo dico in modo molto esplicito. Giobat, ci sono stati gli ultimi decreti delegati del governo, che giudizio dà la FIOM di questa che è un'opera ormai conclusa? È un giudizio pessimo di una legge sbagliata che per quello che ci riguarda deve essere contrastata e cancellata. Quindi noi pensiamo che con la contrattazione collettiva, sia il contratto nazionale che la contrattazione aziendale, occorra estendere i diritti, non toglierli, evitare i licenziamenti, non rendere possibili né i controlli a distanza né i demansionamenti. E penso che rimanga aperto il fatto che quando una legge è sbagliata bisogna provare a cambiarla. E per quello che mi riguarda penso che sia importante che la CGL concluda l'impegno che si era presa a febbraio di coinvolgere tutti gli iscritti anche per arrivare a un referendum abrogativo di quella legge sbagliata. Eppure sia Renzi che il Ministro Poletti rivendicano i meriti del Job Act, l'aumento del numero dei contratti. Anche se sono solo trasformazioni, meglio un contratto stabile che non un contratto precario. In realtà un contratto a tutele progressive dove la persona è licenziabile per un po' di soldi non è un contratto a tempo indeterminato. E qui siamo tornati al fatto che il lavoro è merce e anziché tutelare il lavoratore da un licenziamento ingiustio si sta tutelando l'imprenditore che può licenziare ingiustamente per un po' di soldi. Del resto i dati dell'Istat vanno letti per quelli che sono. Quando l'Istat dice che 3 milioni e 100 mila erano i disoccupati a giugno e 3 milioni e 100 mila sono i disoccupati oggi io vedo con fatica il fatto di poter dire che abbiamo invertito la tendenza. Se si va a vedere nel merito le forme di lavoro che sono aumentate di più sono i contratti a termine e dall'altro l'uso dei voucher che ha assunto una dimensione altissima e la disoccupazione giovanile non è diminuita. L'unica fascia di lavoratori che vede una diminuzione è gli ultracinquantenni. Quindi prima di raccontare che siamo usciti dalla crisi o che c'è una ripresa bisognerebbe fare i conti con la situazione. Senza una ripresa degli investimenti pubblici innanzitutto avendo un'idea di paese di sviluppo ma anche una ripresa degli investimenti privati non si va da nessuna parte. Se si vuole creare l'occupazione ci sono due strade da seguire. Ridurre l'età pensionabile e ridurre e redistribuire gli orari di lavoro in modo che ci siano più posti di lavoro e garantire i diritti che oggi non hanno a tutte le forme di lavoro. Per noi nel contratto che vogliamo andare a discutere c'è un punto di fondo. Diritti fondamentali come la maternità, come la malattia, come le ferie, come gli infortuni, come un equo compenso e cioè avere un salario uguale a un altro lavoratore che fa il tuo stesso lavoro sono i diritti che debbono essere introdotti per far sì che ogni qualsiasi forma di lavoro almeno dentro le imprese metalmeccaniche abbia gli stessi diritti e le stesse tutele. Noi siamo il sindacato del no quando vogliono cancellare i diritti ma vorrei far notare che il Premier Renzi quando ha voluto firmare dei buoni accordi ha dovuto chiamare alla Presidenza del Consiglio due gruppi dove la trattativa e gli accordi li ha fatta, guarda caso, anche la FIOM. Penso all'Elettrus, penso alla Whirlpool. Quindi noi non siamo il sindacato che dice di no quando c'è di dire di no ma siamo il sindacato che fa gli accordi quando c'è da farli. Vada a vedere la Lamborghini con la Volkswagen e vada a vedere che noi siamo il primo sindacato che è riuscito a fare un accordo dove l'alternanza scuola-lavoro ci sono persone che vanno a studiare anche dentro la fabbrica e vengono pagati dall'azienda 600 euro al mese. Noi il reddito l'abbiamo già fatto anche per chi studia per garantire il diritto al lavoro. Quindi noi stiamo facendo delle cose serie. Il problema è che lui ascolta solo una parte. Lui sta facendo sotto dettatura quello che la Confindustria e la Grande Finanza gli sta chiedendo. Questo è il vero problema di questo Paese. Grazie. Grazie.